guanto def con 5 quanto da ufficiale in vera pelle materiale molto morbido lacciuoli per agganciarli qui abbiamo una taglia m elasticizzato sul polso cuciture nascoste ben protette indossabilità eccellente molto molto morbido linea pulita essenziale etichetta facilmente asportabile taglie precise molto giuste questa è una m leggermente forse grande per me interno privo di fodere